Continuano le rapine a Perugia nel suo comprensorio. L'ultima in ordine di tempo è quella che è stata effettuata ieri all'Eurospin di Via Trasimeno a Vesta a Ferro di Cavallo intorno alle 19.15, che aveva fruttato al malvivente un bottino di circa 11.000 euro. Gli agenti della squadra volante della questura di Perugia, dopo essere stati avvertiti dai dipendenti del supermercato ed un breve inseguimento a piedi, hanno arrestato un uomo di 46 anni, originario di Roma ma da anni residente a Perugia, già noto alle forze dell'ordine per respaccio di sostanze stupefacenti e per reati contro il patrimonio. L'uomo, che si era introdotto nel supermercato con il volto travisato da un cappello e con una pistola a giocattolo, ha tentato la fuga introducendosi in un palazzo e nascondendolo refurtiva in una busta sotto il cappello. Una volta fermato, mentre tentava di scavalcare una recinzione, dopo aver nascosto pistola e maglione sotto un grosso sasso, il malvivente sosteneva di scappare perché in possesso di un modesto quantitativo di cocaina.